hello collector people ben trovati sul divano di inchiostro e tempera oggi con noi non c'è nessuno esatto come sta il trooper non c'è il trooper quindi come vogliamo intrattenere di che vogliamo parlare in questo che diciamoci la verità è a tutti gli effetti un po' assolutamente sì anche perché facciamo metà i cazzi nostri fatti nostri però per lo più ma anche perché onestamente tutte le settimane è stato 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 e a un certo punto viene anche annoia e quindi poiché in realtà noi la statua la prendiamo come pretesto per poi parlare di altri fatti stavolta non c'è nemmeno la statua un po' per tornare a quando esistevano le fumetterie erano veramente fumetterie dove uno andava a chiacchierare parlavi del più del meno si raccontavi delle cose e diciamo le fumetterie in realtà sono diventate un posto dove si insultano i clienti sui social forse quelle là non è il mio caso perché sai che non le tratto forse dove si trattano anche magic giochi no 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 in generale le fumetterie dove per lo più sui vari altri social quelli verticali ci stanno più che altro altri personaggi fumetterie che insultano chi va entra dentro ah ho capito mi raccontano come quando noi raccontavamo le cose delle fiere però loro molto insultandole proprio cioè noi era internos ho capito proprio però noi torniamo alle fumetterie degli anni 90 quando si parlava di fumetterie esatto quando si parlava si diceva ah france ho finito di vedere l'altro ieri l'ultima serie di zero calcare su netflix questo mondo non ti renderà cattivo come quelli che tengono le fumetterie e insultano le persone esattamente come quasi tutti quelli che hanno qualunque cosa e che semplicemente ad avere a che fare con il prossimo diventano cattivi esatto e siccome vabbè lo diciamo per cosa vuoi dire che tu sei diciamo un grosso estimatore un grosso estimatore di zero calcare e in realtà me l'hai fatto conoscere tu prima che lui diventasse famoso ah si si per il primo librissimo ma addirittura prima che uscisse io le prime cose le ho viste online si ma tutti abbiamo visto le prime no vabbè c'è chi l'ha scoperto chiaramente da quando Bao ha fatto uscire i volumi no? mentre invece tu me l'hai fatto conoscere prima che uscisse si si diciamo dopo Maccox prima Bao prima di Bao sul blog esatto sul blog diciamo io le sue prime cose le ho lette sul blog la teoria dell'armadillo non era uscito ancora la profezia la profezia dell'armadillo non era esatto correggimi con decisione corrigeretemi se sbaglio esatto visto che stiamo insultandomi perché e quindi niente parliamone allora io effettivamente non mi ricordo quando te l'ho fatto non c'è però effettivamente a zero calcare l'ho conosciuto sul blog anche per il tram tram di altri autori sì lui faceva no faceva queste cose il lunedì eh sì in realtà postava almeno quando me l'hai fatto conoscere a me lui postava il lunedì questi questi corti fumettini eh queste storie corte il lunedì penso che in un secondo momento infatti l'altro libro si chiamava ogni altro maledetto esatto no mi pare che in realtà aveva anche una periodicità poi a un certo punto è riuscito ad essere più periodico e poi ha lasciato perdere tutto perché no vabbè perché si poi diciamo ha cominciato a lavorare alacremente esattamente anche troppo sì ma è dovuto venire a patti con le scadenze come tutti i fumettisti del mondo è dovuto venire a patti con le scadenze con i contratti con gli editori che ti dicono esatto ma io penso anche con quello che si autoinfligge perché credo che anche lui faccia molto più lavoro di quanto debba perché poi vabbè perché vabbè che poi lui ne parla se sono i suoi nelle sue storie ne parla che inizialmente diceva sì a qualsiasi cosa era diciamo coerente con le sue idee diceva sì a qualunque cosa ma penso che continui a farlo a determinate cose perché poi quello che arriva al mainstream cioè arrivi dalla BAU per una parte poi ci sono alcune cose che lui ha fatto per i giornali eh no 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 sì sì ma infatti in realtà volevo parlare più un poco della serie no proprio della strada che cioè non volevo fare un discorso un po' più serio cioè parlare proprio allora lui è bravo no e su questo siamo d'accordo assolutamente anzi è molto bravo è uno di quelli che è stato capace di raccontare una generazione perché no ma al di là senza sì al di là della generazione senza essere autoassolutorio perché non lo è mai no non lo è mai senza essere lezioso no però c'ha una leggerezza no però è una cosa diversa essere leziosi è una cosa essere no l'autoironico è leggero è un'altra che forse è il pregio più grande che ha considerando le tematiche che racconta esatto e soprattutto infatti io poi alla fine proprio di questo non è non è non è diventato un meme non è diventato una barzelletta non ancora perlomeno non è non è non ha scavallato quella cosa dove è diventato così banale da essere no e infatti diciamo la sua il suo pregio proprio maggiore è questa capacità che ha di raccontare le cose non essendo mai banale non essendo riuscendo a a inserire dentro una certa leggerezza avendo anche secondo me una poetica ah sicuramente notevolissima diciamo te lo raccontai ma perché questo poi era un fatto che diciamo anche personalmente mi avevi diciamo era una cosa che personalmente proprio mi aveva toccato e quindi la scena quando lui va a trovare la ragazza francese a casa e ci sta l'armadillo e poi ci sta questa specie di mostro nero eccetera che era quello della che era praticamente la malattia la malattia della ragazza che rimangono fuori la porta eccetera e questo è un modo di dire una cosa molto importante molto incredibile assai molto importante anche con una quella vignetta cioè l'armadillo diciamo è una semplicità è una potenza è una poesia incredibile no? anche una delicatezza eh no tutto questo tutto insieme è molto esplicativo sì è veramente bravo quello che invece io ti volevo chiedere è questo io ho visto adesso la serie che era uscita da un po' e ti spiego quale la mia perplessità rispetto al futuro cioè dando per per assodato che è bravissimo no? però il fatto di raccontare comunque sempre tematiche serie sempre no? a me appunto io ci ho dovuto mettere un poco per decidere di vederlo perché mi piace no? però non sono fan accanito che qualunque cosa esce me la dà allora il fatto di sapere già in precedenza che dovrai essere preparato preparato per apprezzarlo psicologicamente per capirlo per seguirlo eccetera perché sicuramente comunque sarà una cosa cioè lui quando pubblica scrive eccetera vuole dire qualcosa non lo fa tanto per fare esatto e secondo te questo alla lunga non può diventare per una certa parte di pubblico anche un problema cioè io appunto adesso non riesco appena esce a leggere il libro o a vedere la serie devo decidere perché appunto il fatto che so che sarà una cosa che sarà una cosa no pesante impegnativa pesante no perché lui è bravo riesce a non farla diventare pesante però impegnativa sì allora io quando mi sono visto un altro po' quest'estate quando ho visto questo mondo non mi renderà cattivo l'ho trovata addirittura migliore di strappare lungo i bordi perché strappare lungo i bordi hanno più o meno le stesse tematiche che parlano fondamentalmente della mia generazione però ci mette in questo c'era qualcosa di più e io ho visto il secondo episodio quello dove Sara prende il lavoro sì nella scuola esatto e lui fa tutto un discorso sul fatto che la mia generazione sta sempre accigliata sta sempre nervosa o ridiamo tantissimo o siamo sempre tesi perché siamo io là io piango perché è vero perché no 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 però diciamo questo chiaramente a te a te in particolare mi tocca ti tocca per un fatto generazionale perché mi conosco che vedo però a me che invece non a me non mi coinvolge perché non è quella generazione là però lui racconta anche altre cose ah sì ci sono tante altre parole esatto cioè il fatto generazionale è evidente perché lui per esempio è di quella generazione quindi racconta le problematiche di quella generazione là però è molto più vicino a te per esempio l'amico tossicodipendente perché nella vostra generazione c'era quel problema enorme con l'eroina io l'ho superata io l'ho schivata io ti dico la verità se devo essere sincero no nemmeno quello perché poi anche quello onestamente dipende molto anche alle frequentazioni sì dai quartieri in cui vivevi dalle scuole che frequentavi perché poi quando ero diciamo adolescente io le scuole non erano come adesso dove trovi persone che arrivano da dovunque nella città cioè all'epoca erano molto di quartiere o comunque no rionali sì di quartiere esatto in quella scuola al 90% tu trovavi ragazzi che abitavano in quel quartiere ora Napoli è una grande città quindi stiamo parlando comunque di decine di migliaia di persone però però il quartiere era quello quindi è vero ma dipende comunque da dove abitavi quel periodo ha toccato no no c'era sicuramente sicuramente però diciamo io personalmente non hai mai avuto sinceramente non ho avuto esperienze nell'ambito anche delle amicizie molto larghe non ho avuto esperienze di questo però questo prima di tutto Michele Zero Calcare non esce una volta all'anno no vabbè esce molto però comunque tranne quei libri che fanno della Bao che secondo me sono un po' eccessivi tipo hanno fatto l'artwork sulla serie ma uscirà vabbè però quello è contorno là è commercio uscirà a Lucca il libro dove tiene le schede dei pupazzetti che sono usciti in edicola vabbè ma questo diciamo questo è merchandising esatto e quindi non diciamo non lo considero però diciamo che per quanto riguarda i libri non ne escono così tanti di inediti secondo me potrebbero essere ancora meno avrebbe potuto farne anche qualcuno in meno devo essere sincero io penso aspetta quindi secondo me tutta questa pesante cioè tutta questa preparazione non sai perché anche se ci fosse un solo anno di distanza tu riesci ad assorbire il colpo non è una questione di distanza fra le cose è proprio una una questione di impegno cioè che non chiaramente non tutti quelli che approcciano a un fumetto o a una serie o ci hanno lo spirito sai cos'è lui è bravo perché non fa la paternale cioè non è uno che da dentro nel caso della serie adesso da dentro al televisore ti dice col ditino alzato col ditino alzato non lo fa la sfotte quindi lui è bravo io infatti lo dico lui è bravo proprio per questo temo però appunto ripeto questo però per l'approccio mio temo che alla lunga questo fatto di dover sempre parlare di tematiche serie questo quasi dovere che lui sente no? di dover parlare per forza di tematiche perché poi alla fine è l'unico forse non serio che ha fatto quello degli zombie esatto a me quello è l'unico che non mi è piaciuto perché non era sentito perché era inutile proprio allora secondo me sono due aspetti allora il primo è che secondo me ci sta una certa distanza tra il lettore che si deve preparare per leggere essere pronto perché ormai è diventato scusami perché ormai è diventato mainstream cioè nel senso che vende 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 a chiunque però c'ha quell'altra cosa che c'ha è che metà del fumetto italiano quello là alto quello là che vende i vari gipi erano tutti iper pesanti sì ma lui c'è il più bravo il fumetto gipi per esempio io che lo considero uno dei disegnatori illustratori non disegnatore più bravo che ci sta io ogni libro che ho letto non ne ho letto uno ci ho provato non le ho mai capiti e non le ho mai riuscite a interiorizzare la differenza è proprio quella cioè la differenza è che lui è proprio bravo a parlare cioè quello di Natale della Befana che in realtà era geniale che in realtà parla dei licenziamenti quello tra l'altro nasce tutto un'altra maniera quello è bellissimo quello praticamente erano delle tavole che lui ha pubblicato l'anno prima su Instagram che dovevano rimanere delle tavole poi ha detto uniamole facciamo tant'è vero che là per esempio se vogliamo trovare un problema è che il finale non c'è non me lo ricordo io vedi sono molto sono un estimatore però per esempio io perciò ne parlo che zero calcare nei finali io perciò ne parlo ne parlo con te che sei stimatore invece io ne parlo da letture non dico medio perché quello medio probabilmente è ancora meno interessato di me però da letture quello medio quello medio è il gelato esatto andiamo a mangiare il gelato mi stai scendendo il sangue del naso esatto e appunto la mia preoccupazione è un po' quella cioè che il fatto di essere monotematico serio possa alla lunga diventare un problema secondo me no perché secondo me lui riesce sempre a trovare un modo per divulgare la cosa il problema che ha Michele zero calcare è che quando gli chiedono di fare il compitino lui non riesce e questo si è visto più volte si è visto appunto in 12 quando provarono a fare una serie che lui voleva fare su blog che fine ha fatto Denver ha lasciato perdere dopo 3 secondi cioè ha fatto uscire voleva fare uscire una cosa in collaborazione con Giacomo Bevi l'acqua quello di Appanda piace e hanno fatto 3 cose di cui le ha scritte mi pare tutte Bevi l'acqua lui non è riuscito infatti non mi piace anche là secondo me devi non sempre ci vuole un'armonizzazione non sempre non sempre soprattutto in quest'ambito non sempre queste collaborazioni secondo me hanno la capacità di diventare empatiche magari l'amicizia non basta no l'amicizia non basta secondo me no però è l'altra cosa che ti voglio e ora qualcuno ora ti stupirò per esempio con Maccox secondo me funziona molto meglio perché il tipo di umorismo che c'ha mi sembra molto più simile guarda io penso che però poi siano umanamente troppo distanti dai Maccox ormai non penso che abbiano più questa poi mi sbaglierò perché poi non è che però stavo continuando un attimo e ti dirò che l'ultimo libro che ha pubblicato inedito Don't Sleep Till Shagal è un altro libro che è una specie di compitino perché questo non l'ho letto perché il viaggio che lui ha fatto in questo villaggio non mi ricordo bene dove sta dei Ghezziri sempre in questi posti tipo dalla parte dell'Asilia bene non lo so perché è un posto ancora meno conosciuto dell'epoca del Rojava che il Rojava qualcuno lo conosceva ma questo posto però nessuno e lui là si sente che non riesce a creare davvero il racconto come lo fa lui il racconto è preciso ti racconta le cose è graphic journalism ma non è interessante come 0.4 quindi secondo me lui ha bisogno di esprimere qualcosa il problema che io forse gli servono anche i comprimati cioè che chiaramente le cose romane gli riescono più facile perché ovviamente sono più autobiografiche ma il primo con Banecolling secondo me era estremamente riuscito no quello si però per probabilmente proprio perché la prima è la prima esperienza di quel genere importante tradotta poi mi sembrava più sentito oh anche si più convolto naturalmente il problema che io riscontro con 0.4 è che se lui passa metà della sua vita a fare i disegnetti nelle cose se lui passa metà della cioè un quarto della sua vita lo passa a fare i disegni questo l'ha detto stesso lui un quarto a fare cioè che se lui non vive non può raccontare lo ha detto stesso lui ed è giustissimo tant'è vero che una cosa che mi piace è che non ti so dire se c'è riuscito mi piace che lo affronta il discorso non sono sicuro se bisognerebbe in realtà chiedere ai suoi amici non so se ci riesce o meno mi piace il fatto che lui si pone il problema del fatto che lui è diventato famoso e che alcuni problemi economici non ce li ha più rispetto a quartiere probabilmente in cui ma non so se ci vive ancora nel quartiere nel quartiere in cui vive questa cosa lui da quando è diventato diciamo popolare la mette spesso questa cosa che lui non ha più non vive più i stessi problemi dei quartiere dei soldi della precarietà del degrado eccetera perché chiaramente non c'ha fatto due libri è una serie è una serie diciamo in questa serie qua c'è molto materie una serie una e due era su questo esatto e anche questa serie qua c'è molto questo fatto però l'altra cosa che traspare è che comunque lui si rende conto di quello che per esempio sentiamo sempre noi appunto che siamo tristi è che qualcuno ci lascia indietro quindi per esempio lui lascia indietro Sara per la questione lavorativa però viene lasciato indietro da chi magari si è riuscito a creare una famiglia come per esempio nel ora è uscito il libro nuovo di Bevi l'acqua e Zero Calcare ha fatto il moderatore della conferenza stampa e lui l'ha detto e mi sentivo un po' in colpa perché tu sei andato avanti su questo aspetto importante quindi anche questo ci sono dei pesi e contrapesi però anche questa comunque questa per esempio è una cosa trasversale non è di una generazione sola questo lo sentiamo tutti questa è una cosa trasversale che dipende ovviamente sempre e solo da quando ognuno fa a che età ognuno vive alcune esperienze oppure uno sceglie di fare determinate cose non farle io per esempio questa cosa so che è andata no no perciò è normale che sia così però io l'unico problema che riscontro in questo fatto e la serietà è questo che va bene ricordi va bene tornare indietro come con scheletri va bene voler affrontare e comunque temi tematiche serie secondo me ce ne stanno da affrontare l'unica cosa che riscontro di problema è che se non vive eh no no questo ti ripeto infatti lo dice stesso lui ma non mi ricordo in quale non mi ricordo se era proprio in un libro o era in un intervista o era in un post che diceva il 99% delle cose che scrivo sono autobiografiche quindi se non biografo se non biografo che è autobiografo se non bio esatto quindi questo è così infatti questo sì e perciò dico anche il fatto di questa diciamo di questo muro fra il fatto che lui non vive più un certo tipo di precarietà e il quartiere che ce l'ha appunto comunque lui vive cose adesso separate dal però comunque ci sono riverberi delle persone che vive perché appunto la precarietà l'ha raccontata benissimo con Sara la precarietà l'ha raccontata benissimo e anche là per esempio l'altro tema fondamentale di questo mondo non mi renderà cattivo il fatto di pensare di rubare a qualcuno allora se ce l'hai tu non ce l'ho io e là la cosa è stata veramente bravissima a far uscire secco che durante tutte e due le serie era effettivamente un meme perché andiamo a piaggiare andiamo a piaggiare e poi alla fine ti fa quello 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 sproloquio dove dice no 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 non rubare niente a nessuno quello che ha avuto l'ha avuto senza piangere mai ma lui infatti a raccontare un certo tipo di umanità è proprio bravo ma è proprio bravo ma è quello che ha fatto con sé che c'è proprio un lavoro ottimo di scrittura perché il personaggio che tutti poi va beh scusano si interrompe a proposito la scrittura è uno che c'ha nonostante diciamo per chi ha visto solo le serie può non saperlo perché le serie sono tutte in romanesco e quindi ma lui ha una capacità di parlare nei libri di parlare in italiano cioè di scrivere l'italiano incredibile cioè una delle cose più belle dei primi libri che lui ha scritto era proprio il suo italiano era proprio era proprio l'italiano sì e anche la soprattutto nelle parti ironiche cioè soprattutto quando voleva essere ironico l'italiano che usava per essere ironico a volte anche aulico no a volte anche aulico era una delle cose più divertenti dei primi libri quindi ripeto ancora una volta lui lo fa molto bravo apposta a fare questo è chiaro è chiaro però devi saper fare trate essendo bilingue lui è ovvio che sappia padroneggiare bene le tre lingue che parla l'italiano il francese il romanesco che poi diciamo che sono tutti comunque lingue perché noi siamo navoletane quindi diciamo che il navoletane è lingua quindi accettiamo pure che altri dialetti possano essere cioè lo faccio questa opera di bene diciamo di sì io però ripeto questo è l'unico problema e l'altro problema è che se magari l'impegno politico quello può diventare un problema verso delle persone che magari vedono la serie e si trovano questo scoglio sì però ed è stata una delle cose che mi è stato detto sì là però vedi il fatto che lui allora dovrebbe teoricamente essere così cioè è talmente evidentemente schierato che questo teoricamente dovrebbe essere così però contemporaneamente il fatto che lui è diventato mainstream contraddice questa cosa perché sono sicuro che non lo legge solo il pubblico che è d'accordo con lui allora o l'altra parte di pubblico non capisce allora io oppure non lo so lui dice che ha avuto due tre switch nella sua carriera è stato quando dimenti che il mio nome è stato proposto per lo strega che mi pare che non vinse no mi pare di no è arrivato secondo te forse è arrivato comunque il nome è quello della nonna della nonna francese esatto bello è del nonno colpe fantastico mister fox poi è arrivato il secondo switch è stato quando durante la pandemia faceva i cartoni animati da zoro sì quello è stato il periodo dove è stato proprio il periodo in cui l'ho gradito di meno ok però dove entrava no sì sì lo beccavamo però l'aglio l'ho gradito di meno quello però era interesse cioè i cartoni erano fatti no e là invece proprio in quel perché c'era sia lui che gp in quel periodo la nella già andava già aveva preso gp era prima gp perché per esempio gp dentro dentro erano un po' troppo gp è un po' belletario per esempio come non è Michele ditino la per esempio anche se non c'era fisicamente c'era il ditino eh sì in realtà io non dico di voi non li capisco per uno degli ultimi libri lui diceva voi siete degli imbecilli era il ditino esatto esattamente e infatti non mi piaceva e poi l'ultimo switch è stato con la prima serie di Netflix non è necessario che le persone abbiano letto e poi chissà un'altra cosa è che siamo sicuri che tutti quelli che leggono le cose che leggono guardino tutto eh no quello che ho detto prima quando diventi mainstream non credo quando diventi così mainstream cioè lui teoricamente sia come apparenza che come tematiche non dovrebbe essere mainstream invece lo è diventato e quando diventi mainstream dico come numero di vendite è normale che una parte di pubblico in realtà ti legge ma non è come ma puntini sospensivi non è come quando faccio un paragone assurdo però secondo me funziona i Genesis mandano via Peter Gabriel e fanno diventare Phil Collins cantante e da Selling Band Band England fanno Weekend Dance no sì non è esattamente perché la sua le sue cose sono rimaste le stesse lui le tematiche non le ha cambiate è cambiata è cambiata non è cambiato lui non è cambiato il pubblico non è come quando leggi il disco ma il primo disco era migliore no 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 perciò dico non è cambiato lui è cambiata la quantità di pubblico che lo riconosce e la questione e quindi sì la domanda sporce spontanea non tutti non tutti secondo me e c'è sempre stata un'altra cosa che metà del pubblico dei fumetti lo odia lo odia perché dovrebbe essere così perché per il successo no no io non lo so perché io leggo sempre ci sono dei vari di sui vari forum sui gruppi di facebook eccetera metà pubblico lo adora metà pubblico lo odia profondamente senza dire magari ecco vedi io l'ho detto i due critiche che gli ho fatto mo che non sa fai i finali e che non ti però ho capito questo fatto dei finali in realtà per il tipo di storia che lui racconta sono irrilevanti sinceramente i finali io intendo che anche se il finale non è un finale anzi diciamo che nella vita reale è molto più normale che il finale non ci sia la conclusione comunque lui la conclude il libro conclude e di solito è molto come direbbe qualcuno suonano la porta chi sarà mai no il fatto che metà del pubblico lo odia lo apprezza non lo so forse per le tematiche forse effettivamente perché tra tante cose il suo stile di disegno funziona ma non è uno dei disegnatori più bravi del mondo per niente non lo era quello di Tank Girl però funzionava no 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 sì va bene Tank Girl è meglio è ovvio che è meglio no però non è no no perché non ha nessuna importanza perché non ha nessuna importanza un po' ce l'ha no non ha nessuna importanza è vero che è molto migliorato rispetto ai primi ogni tanto risfoglio e mi rendo conto che è triste però a questo punto non ho parlato antes io ti vorrei tornare al video della scorsa volta le statue che non si fanno mi hanno mandato io non l'ho vista ancora no non so se stiamo parlando no 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 ok i pupazzetti che sono andati in edicola erano carini no la roba che fai in edicola si cruce tipo vampiri erano cari però non era niente di che noi tu hai portato nelle fumetterie i primi kid robot e i primi designer toys ma un grande kid robot fatto con i personaggi ah è vero è vero sarebbe bellissimo come i gorillas ma non sarebbe una e va bene quando lo vedi a michele gli devi dire che contatta kid robot e mettiti d'accordo considerando che tanto ormai lui viene tradotto non so in quante lingue quindi è famoso a livello planetario cazzo ma magari ma pure una grande stato attacus anche certo francesi ma guarda ma anche e qui qua mi ricollego allora al video precedente ma anche ma anche infinite statue che oggi mi hanno mandato un link ha annunciato toto ah c'è quindi incredibile esatto io non l'ho vista ancora mia c'è solo appunto un amico mi ha mandato il link con la con la emoticon con la risata 32 denti e c'è infinite statue con la faccia di toto qui per cui non so se è una statue o un action figure ripeto non ho quel tempo di guardare ma effettivamente si ci hanno ci hanno ascoltato e a questo punto possiamo chiudere il video invitandovi a raccontare quello che pensate anche voi su 0k cosa avete letto se avete letto se siete la parte che lo odio che lo apprezzano e soprattutto vi invito a seguire la prossima puntata di On the Coach di Gio Settempera perché vi diamo il futuro e ve lo portiamo qui see you on the funny papers ciao a tutti 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 ciao a tutti